Ilaria Tomasoni, da Bratto, con frazione di Castone della Presolana, il nuovo comandante della Polizia Locale di Clusone. È stata una prima settimana di insediamento qui nella cittadina Baradella. Come sta andando? Sì, esatto. È iniziato giovedì scorso e appunto in questa prima settimana, ma in generale in questo primo periodo, devo un po' prendere visione della struttura, del corpo e delle modalità operative del comando. E quindi sarà un periodo di visione prima di andare poi a prendere delle decisioni, di vedere un po', di dare la mia linea, diciamo, per il servizio operativo esterno e per i servizi interni. Prima di andare a raccontare anche quella che è la sua storia e il suo passato, vuole presentarci quella che è la sua squadra, quello che è il suo corpo di Polizia Locale qui a Clusone? Sì, allora devo dire che tutto sommato con i numeri non siamo messi malissimo rispetto ad altre zone della Bergamasca. Allora il corpo è composto da cinque agenti di Polizia Locale, anche con esperienza, parecchia esperienza di servizio, e poi abbiamo un messo comunale ausiliario della sosta. Quindi diciamo che un buon numero e soprattutto con esperienza, con esperienza e con un'ottima conoscenza del territorio, perché parecchi sono, sono anche vent'anni, più di vent'anni che sono operativi sulla cittadina di Clusone. Cosa serve al Comune di Clusone? Soprattutto quali sono i problemi di questa città? Allora, vabbè, come premesso sto prendendo un po', sto vedendo un po' la realtà, nel senso che sì, conosco Clusone perché fondamentalmente ci vivo vicino, ma un conto è conoscere il paese, un conto è proprio lavorarci, quindi entrare nelle dinamiche del paese, nella realtà. Allora, quello che sicuramente, secondo me, c'è bisogno, non che non venisse fatto in passato, è la prossimità. Quindi la polizia di prossimità, la presenza del servizio appiedato, soprattutto nel centro, perché Clusone ha un centro storico molto importante. Una cosa che già gli agenti hanno sempre fatto e che continueremo a fare è l'educazione stradale nelle scuole, l'educazione stradale che si fa sia con gli interventi direttamente nelle classi, ma anche con la presenza quotidiana da parte degli operatori nei pressi degli edifici scolastici, sia per l'attraversamento pedonale, ma anche per una questione di sicurezza della zona. Un'altra cosa importante è il decoro, il decoro urbano, e quindi bisognerà dare importanza, cosa che è già iniziata, alla lotta all'abbandono dei rifiuti. Su questo anche le telecamere stanno dando un ottimo contributo. Questi sono un po' gli aspetti principali, ma poi ce ne saranno comunque tanti altri, compreso il controllo del rispetto delle normative del codice della strada, anche se la cosa più importante è sempre fare prevenzione. La repressione è l'ultima razza, cioè prima si punta alla prevenzione e al cercare di evitare comportamenti scorretti, sia nell'ambito del codice della strada, che poi della polizia amministrativa, di tutto ciò che compete alle tante materie che competono alla polizia locale. Noi qui vediamo il dispiegamento di tutti i mezzi a vostra disposizione. Abbiamo parlato del numero di agenti, delle persone che vi aiutano in questo servizio, però insomma un copio d'occhio è davvero importante anche per quelli che sono i mezzi a vostra disposizione. Sì, abbiamo a disposizione tre veicoli, di cui uno elettrico, abbiamo due motocicli più i velocipedi, di cui due anche a pedalata assistita, che saranno soprattutto utili nel periodo, diciamo, tardo primavera-estate, anche lì per il controllo soprattutto del centro storico. Su quello si punterà molto, diciamo, perché permette di essere comunque lenti, comunque nel senso a disposizione, la persona che ti vede riesce a fermarti per poterti parlare, però di muoversi anche con un po' più di rapidità in caso di qualche intervento particolare. Anche per il controllo delle piste ciclabili, immagino, visto che Clusone ne ha davvero diverse. Esatto, ci sarà anche il controllo delle piste ciclabili, soprattutto lì è un controllo, tra virgolette, nel senso che anche lì bisogna fare tanta educazione al rispetto dell'altro. Le piste ciclabili sono utilizzate davvero da tante persone, sia pedoni che velocipedi, e a volte questa promiscuità causa un po' di problemi. E quindi sarà un intervento, diciamo, appunto preventivo ed educativo sul rispetto dell'altro, soprattutto. Noi vogliamo conoscerla un po' di più quest'oggi, insomma, sapere anche qualcosa di lei che ha preso il comando di questo corpo così importante di Polizia Locale qui a Clusone. Vuole raccontarci del suo passato, del suo curriculum, soprattutto con questa divisa. Allora sì, essere arrivati qua è per me sicuramente un onore, perché comunque la città di Clusone ha un corpo di polizia importante ed è comunque un po' il fulcro dell'Alta Valseriana. Io ho iniziato a lavorare nel 1998 come agente nel consorzio Valseriana, che allora aveva sede all'Effe. Dopo tre anni ci siamo spostati a Nembro e da lì sono rimasta fino a settimana scorsa. Nel 2008 ho fatto il concorso da ufficiale e ho ricoperto per qualche anno anche il ruolo di vicecomandante presso l'Unione insieme sul Serio, che appunto ha sede a Nembro. Quest'anno ho sentito che è raggiunta l'ora, è raggiunta l'ora di lanciarmi un po' in questa sfida, di prendere in mano un comando e di tagliare un po' il cordone umbilicale, diciamo, con il luogo dove sono cresciuta professionalmente. C'è un'operazione o un servizio particolare che ricorda della sua carriera? Ma allora tra tanti, tanti, tanti servizi e interventi, a volte cose anche pesanti, perché comunque anche gli incidenti lasciano poi degli strasci che è anche abbastanza importante, ma anche cose molto belle, soprattutto con i bambini, con l'educazione stradale, che ti lasciano sempre qualcosa di bello. Ricordo in particolare una sera, erano le due di notte, ero in servizio con una collega, stavamo rientrando in comando. Ci siamo quasi spaventate perché ci passa un'ombra, un'ombra passa vicino in bicicletta, era Don Vinicio, che a Nembro, diciamo, è molto conosciuto, che si ferma e, ah, eccoli qua i miei angeli custodi. Ecco, capite che venire definiti angeli custodi, davvero, è molto, molto, molto gratificante. E insomma, buon lavoro anche agli angeli custodi di Clusone, che avranno un loro bel da fare proprio in tutti questi anni qui con il nuovo comando di polizia. Grazie, grazie per il buon lavoro. Daniele, è stato un 2022 abbastanza impegnativo la chiamata del sindaco, che ti ha dato questo incarico protempore. Come sono andati questi mesi e adesso, insomma, il corpo a tutti gli effetti è completo. Raccontaci un po'. Beh, devo dire che quando il sindaco mi ha chiesto di diventare responsabile, per me è stata una bellissima notizia, perché lavoro qua da 26 anni e non dico che è un sogno nel cassetto fare il comandante, però è stata davvero una bella esperienza. Conosco tutto di Clusone dopo 26 anni e devo dire che amo Clusone veramente, quindi è stato veramente un onore per me. È stato anche, immagino, difficile organizzarsi. Com'è la vita all'interno del comando? No, difficile organizzarsi no, perché comunque le meccaniche di un ufficio dopo 26 anni le conosci benissimo. Diciamo che abbiamo avuto momenti in cui eravamo in pochi e quindi ho dovuto chiedere ai miei colleghi del lavoro in più per coprire i turni, ma ho ricevuto una grande collaborazione dei miei colleghi, che poi sono anche amici perché lavoriamo insieme da anni e quindi è andato tutto per il meglio. Allora, per quanto mi riguarda, spero che anche l'amministrazione sia stata felice di quello che abbiamo fatto e adesso parte una nuova era. Però c'è un team giovane? C'è un team giovane? Non lo so, se parti da me non di sicuro, però abbiamo avuto delle recenti assunzioni con dei ragazzi giovani, abbiamo anche il nostro messo comunale che è molto giovane e quindi si fonde bene l'esperienza di alcuni con la voglia di lavorare di altri. Spesso ti abbiamo incontrata con i ragazzi, con i bambini, con l'educazione stradale che è un po' il tuo punto di forza. Allora, il mio punto di forza è una cosa a cui tengo tantissimo perché credo fortemente che serva, che sia utile e poi adoro il contatto con i bambini. Cerco di vedere nei bambini quello che io vedevo quando vedevo le persone in divisa quando ero piccola io, quindi un senso di rispetto e anche di timore che ti porta ad avere determinati comportamenti che poi sono utili per i ragazzi. Insegnargli le cose banali. Già domani giovedì andiamo alle scuole elementari a fare educazione stradale. Insegnargli cos'è lo stop, insegnargli cos'è il dare la precedenza. Sembra una banalità, ma loro con le bici girano già il paese e quindi devono conoscerle e devono saperle rispettare. Un'azione, un servizio particolare di questi 26 anni a Clusone che ti porti nel cuore, magari vorresti raccontare anche ai bambini, qual è? Oddio, mi chiedi così all'improvviso di cose da raccontare, ce ne sono tante. Tutto quello che è legato ai bambini ha un bellissimo ricordo dentro di me, di ogni cosa. Io ho fatto passare, dico sempre che ho fatto attraversare i bambini all'asilo che adesso sono genitori, quindi conosco veramente tutti di Clusone. Per quanto riguarda esperienze particolari, diciamo che mi è capitato con un cane, che può sembrare una cosa banale, una delle esperienze più toccanti, nel senso che avevamo trovato un cane e che ci avevano segnalato essere morto. In realtà quando l'ho visto, ho visto che era un cane che una persona cercava su Facebook, ho chiamato la proprietaria che è venuto a rintracciarlo, il cane non era morto, se era tipo addormentato, lì non si spostava più, si lasciava morire lì. Quando ha sentito la padrone, questo cane è balzato in aria ed è corso verso la padrone, è stato davvero un momento emozionante. Per chi ama gli animali può essere considerato una banalità, ma a me mi aveva colpito molto. Grazie e buon lavoro a tutto il vostro gruppo, perché insomma adesso i mezzi sono pronti, sono schierati, c'è da lavorare tanto, come avete fatto in questi anni. Sì, ecco, diciamo che abbiamo sempre lavorato, adesso partiamo con una marcia in più. Sindaco Massimo Mostavillini, un giorno un po' di presentazioni di questo nuovo comando, abbiamo conosciuto Ilaria Tommasoni, abbiamo fatto parlare Daniera Bonaccorsi, che ha un po' tenuto le redini per questi nove mesi di questo 2022 del comando di polizia locale, c'è da dire che è clusone in buone mani. Assolutamente sì, questo servizio, innanzitutto ringrazio te Elisa e l'emittente per averci dato questa possibilità, è un modo anche per presentare effettivamente quello che siamo abituati a vedere in maniera spezzettata, il nostro corpo di polizia locale, che come abbiamo avuto modo, come abbiamo modo di vedere, invece è un corpo molto sostanzioso, sia in termini di forze umane, per i numeri che abbiamo visto, per le persone poi che lo costituiscono, quindi le professionalità e l'esperienza anche delle persone che lo costituiscono, e anche da un punto di vista strumentale dei mezzi. Qui ci sono gli autoveicoli e quindi le auto, le motociclette e le e-bike, le biciclette elettriche, ma poi c'è tutta una strumentazione invece legata alla questione della sicurezza, quindi dalla videosorveglianza con tutte le apparecchiature dentro, più i telerilevamenti delle velocità, più comunque la questione della misurazione del grado alcolico, quindi dei guidatori, quindi è un corpo di polizia locale molto molto ricco e strutturato, che ha come finalità unica quella di garantire la sicurezza dei cittadini di Clusone, ovviamente in un'ottica di, come abbiamo già detto la scorsa volta, di educazione civica di ciascun cittadino, ma sempre quindi anche di dare questo senso di tranquillità ai cittadini. Abbiamo parlato con alcuni di loro, abbiamo visto anche questo team giovane che unisce, sì, tanta esperienza, tanta conoscenza del paese, ma anche nuovi giovani pronti davvero a dare il massimo per questo lavoro e per questo comune. Sì, questo è un elemento importante, quindi entusiasmo e quindi anche stimolo che vengono dato da queste figure giovani, che sono tra l'altro alcune arrivate da poco a Clusone, ma che stanno veramente impegnandosi tanto, quindi unendo l'esperienza dei nostri ormai, dire storici, non è offensivo, quindi abbiamo visto Daniela Bonaccorsi, Matteo Zucchelli e Paolo Valenti, unita però a figure invece più giovani, tra cui il nuovo comandante arrivato ora, che quindi si unisce questo mix giusto di novità con esperienza che sicuramente non potrà che fare bene. Massimo Mossabili, non ci resta che augurargli buon lavoro? Assolutamente sì, buon lavoro, siamo sicuri che quindi anche i cittadini saranno contenti di questo corpo di polizia locale rinnovato.